Alcune persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli verificatosi sulla statale 117 bis centrale Sicula all'altezza del chilometro 82 nel territorio del comune di Gela. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118 per prestare soccorso ai feriti, le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e per regolare il traffico insieme al personale dell'ANAS. La strada in un primo momento è stata infatti chiusa al transito dei veicoli. Dopo alcuni accertamenti eseguiti dai tutori dell'ordine e l'intervento dei componenti del personale ANAS è stato possibile riaprire l'arteria stradale al traffico regolato con il senso unico alternato. Nelle prossime ore la viabilità dovrebbe essere ripristinata in entrambi i sensi di marcia.